Prima Makarov e ora... Anche Elsa sono fuori combattimento. Non c'è più nessuno a difendervi. Consegnatemi Lucy Artefilia! E fate in fretta! Te lo puoi scordare! Lucy è una nostra compagna, chiaro? Sì! Non avrai mai Lucy! Vattene! Forse... Non ti consegnerò mai Lucy! Anche a costo della vita! Puoi insistere quanto ti pare? La nostra risposta non cambierà!